Sono particolarmente emozionato e orgoglioso di questa opera. La sento un po' mia, naturalmente, quale presidente della Nebido Rocco. E questa è una struttura imponente, importante, è un salto in avanti della nostra scuola. La preparazione fisica è diventata una cosa fondamentale. Lo sport è il modo per associare, per integrare, per imparare, anche rispetto all'adversario. Io sono uno sportivo nato, ma anche se in questo momento lo sport non lo pratico più. Vi ringrazio tutti per essere qui, per esempio. Grazie, grazie a tutti. E Spirito Santo, discenda su di voi, su questa sede, e con voi rimanda sempre. Amen. E auguri a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.